Bene, sì, è finita questa campagna elettorale. La prima considerazione è quella che ha vinto il partito del non voto. Nienta gente che non è andata a votare, quindi questo ci obbliga già da domani a una riflessione, il perché. E' un tanto un augurio al nuovo governatore Oliverio, che ritengo al di là di tutte le emergenze che ha la Calabria, in questo momento la sfida maggiore che lui dovrà affrontare è quella di riportare le persone vicino alla politica. Non è semplice perché le cose è riportare alle persone anche affrontando i problemi, problemi che la Calabria ha ereditato da un governo scopelliti in tutti i settori, dalla sanità e dai trasporti, anche all'ambiente. Quindi va un augurio al governatore che già da domani mattina possa, come promesso in campagna elettorale, occuparsi della sanità, questa sanità che non va bene soprattutto nel nostro territorio. In riferimento al mio risultato ritengo che sia stato un risultato buono, in considerazione del fatto che non avendo un partito alle spalle, partendo a 30 giorni da campagna elettorale e con 2.100 preferenze, essendo il primo eletto all'Ocri con 805 preferenze, con 5.500 votanti, e tengo che ancora una volta abbiamo dimostrato, ma non solo io, il mio gruppo e quelli che mi hanno sostenuto, che quando operiamo operiamo in bene, soprattutto in bene della nostra città. Mi auguro che la prossima volta, fra 5 anni, quando si voterà, tutto il territorio possa fare una riflessione diversa e quindi che anche il territorio della Locete sia rappresentato da un consigliere regionale che possa rappresentare al meglio il nostro territorio. Il potere politico, se così possiamo farlo, si sposterà sul Reggio Calabria. Mi auguro che gli amici di Reggio Calabria non dimenticano, come spesso è stato fatto, il nostro territorio. Qualcuno che ha operato male, sia dal centro-destra al centro-sinistra, ha avuto il ben servito e guarderà questi 5 anni da casa quello che faranno, mi auguro, di positivo i consiglieri regionali. Con questo auguro a tutti i neoeletti, che ancora qualche nome non si conosce, mentre vi sto parlando, un in bocca al lupo, e con la speranza di poter incontrarli sul nostro territorio per iniziare una riflessione seria sulle nostre problematiche. Intanto ringrazio tutti gli elettori per il grande contributo che hanno dato nel girare e credere nella mia persona. È veramente stato un grande aiuto col cuore, perché in giro era noto a tutti, si diceva, il centro-sinistra vincerà avanti, quindi il centro-destra in questo momento non ha un ruolo, non avrà un ruolo. Io ci ho creduto, consapevole del grande rischio, sono andato avanti, ho insistito perché il mio obiettivo era cercare di dare quel contributo che ho dato, forse volevo darne un po' di più, per la ricostruzione di questo centro-destra che viene ormai dalla distruzione quasi completa. Stiamo per ripartire, ripartiremo, rimarremo sempre in linea con il progetto iniziale e con gli amici che sono stati vicini e sicuramente ricominceremo e partiremo alla grande costruendo per le prossime avventure elettorali. Ancora non abbiamo i dati definitivi. Abbiamo riscontrato questa perdita netta in tutti i paesi e si vede che c'è stato qualcosa che non è andato bene e comunque io sto attendendo il dato di Locri che è significativo per me, sono fuori da ogni logica amministrativa e di conseguenza non mi aspettavo di prendere chissà cosa Locri, però ho ottenuto e questo mi consola. fuori Locri in alcuni paesi ci sono e sono presente anche con 50 voti per paese e devo dire la verità sul Reggio ho ottenuto bene, fermo restando che comunque non avendo preso il quorum alla lista secondo me c'è stato qualcosa che non è andato bene a livello regionale e di conseguenza se non abbiamo ancora i dati definitivi non possiamo fare un'analisi attenta. Io sono serenissimo, sono contento in ogni caso, è un'esperienza la prima volta in vita mia, un'esperienza del genere che ho maturato in tanto tempo e di conseguenza ora se non ho un dato definitivo non posso fare un'analisi lineare. Attendiamo fiduciosi il dato definitivo e dopodiché vi comuniceremo ciò che è giusto dire agli elettori. Un ringraziamento a tutti quanti, comunque a tutti gli amici che mi sono stati vicini. Abbiamo percepito un voto cospicuo sui reggini, quindi ci ha colonizzato Reggio, questo è il dato.